È un teatro che ha una grandissima tradizione, che ha delle grandi aspettative. Sentiamo l'emozione, sentiamo la responsabilità. Tornare al Festival Verdi significa... ...l'opportunità di venire in questo teatro splendido. Una partitura, rispettarla alla lettera, non dimenticando che questa lettera senza lo spirito è lettera morta. Tornare al Festival Verdi Tornare al Festival Verdi Tornare al Festival Verdi Il nominatore comune è il piacere, la voglia, il piacere di lavorare insieme. Sono amoroso di questa opera, di questa diversità, di queste cose varie, di queste extravaganze. Mi piace molto, sì. Il festival è una cosa molto importante. Il pubblico conosce molto ogni opera, dunque è come venire a parlare di un fratello. Il pubblico conosce Un pubblico conosce Ci sono un pubblico, Non è solo bello, non è solo bello, non è solo bello. Grazie.